Si muove in territorio negativo Piazza Affari, scendono di più le altre borse europee. Si distingue a Piazza Affari il settore beni personali che esibisce un più 1,15%. In fondo alla classifica i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti sanitario, petrolifero e vendita al dettaglio. Consolida ai livelli della vigilia lo spread con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,42%. Sul fronte microeconomico sorprende l'economia della zona euro con il dato sul pil annuale rivisto a rialzo, mentre è in ripresa all'industria tedesca a gennaio dopo la frenata di dicembre. Domani pomeriggio sono attesi il dato sulle scorte di petrolio e le vendite all'ingrosso dagli Stati Uniti. Negativo il future sull'S&P 500 che scambia con un 0,65%, stesso andamento per il derivato sui titoli tecnologici USA che scambia 4.266 punti in calo dello 0,79%.